Come stanno le mani di Gianni Morandi dopo l'incidente? Il cantante ha pubblicato una loro foto nelle ultime ore Gianni Morandi ha mostrato sul social la foto delle sue mani dopo l'incidente che ha avuto nel marzo del 2021 Ma cosa era successo? Leggi anche, Neck mostra la mano dopo il drammatico incidente, ecco la foto Sock Gianni Morandi e l'incidente, mano ostionata Gianni Morandi lo scorso anno è stato vittima di un incidente domestico mentre si trovava in uno dei suoi terreni, il cantante ha dovuto affrontare una vera e propria battaglia per recuperare le sue mani, dopo esser caduto nel fuoco La sinistra è apparsa immediatamente meno grave, mentre la destra ha presentato un quadro clinico ben diverso Morandi aveva chiarito subito che la sua convalescenza sarebbe stata lunga e avrebbe dovuto avere pazienza La foto delle mani Gianni Morandi ha voluto rendere partecipi i suoi fan dal momento dell'incidente a oggi, nel post pubblicato nelle ultime ore sui social, il cantante ha mostrato le sue mani dopo l'ustione Ecco cosa ha scritto, la mano destra di Morandi è visibilmente danneggiata dalle ustioni e ancora gonfie, mentre la sinistra appare immediatamente meno grave Per fortuna, comunque, nonostante le bruciature siano evidenti, il cantante è riuscito a recuperare completamente l'uso della mano Nel post pubblicato sui social non ha accennato all'incidente avuto lo scorso anno, forse per rendere tutto più naturale possibile senza scatenare la preoccupazione dei fan Le mani di Gianni Morandi La reazione dei fan dopo aver visto la foto delle mani di Gianni Morandi, il cantante ha ricevuto una vagonata di commenti da parte dei suoi fan Fra tutti si legge, il calore dei fan di Gianni Morandi è palpabile a questa forse è sempre stata la grande forza dell'artista Seguici su Instagram cliccando qui Grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao